Allora, bentornati sul canale, oggi siamo con Francesco e con lui parleremo di iniziare una nuova carriera come driver di Uber, che trovo che sia una cosa molto interessante per chi ci segue, ma cominciamo dall'inizio. Come mai sei all'estero? Come è iniziato tutto? Vivevo a Milano, quindi non è neanche vivevo in paesi così per tutti dell'Italia, dove è molto difficile avere una carriera lavorativa. Non riuscivo mai a trovare il mio spazio, a trovare un lavoro che mi desse comunque una stabilità, avere una certezza. Alla fine è successo tutto a cavallo tra il 2014 e il 2015, finita una storia d'amore. Avevo deciso di dedicare qualcosa a me stesso, dato che però non stavo effettivamente molto bene, parla di problemi di depressione, problemi molto pesanti, ero arrivato a pesare più di 200 kg, molto di più di 200 kg. Mi ero lasciato un po' andare, ovviamente nelle condizioni fisiche in cui ero non riuscivo ovviamente a trovare poi un lavoro. E alla fine niente, ho deciso di intraprendere questo percorso di disintossicazione dal cibo, cura, e mi sono messo in mano a una struttura che mi ha accompagnato a quello che poi è stato l'intervento chirurgico. Obbligatorio, perché comunque ormai le diete non funzionavano più, un esercizio fisico rischiavo l'infarto. E quindi ho fatto questo intervento, ho fatto l'intervento nel 2015. Nel giro di pochi mesi, non dico che ero arrivato al peso forma, perché non lo sono neanche ora, però avevo perso tanto. E lì avevo iniziato poi a lavorare, sempre con i contratti a termine, sempre con queste cose un po' così. Alla fine un giorno ho detto basta. Ho preso un aereo e sono sceso, sono arrivato a London Gatwick. E lì ho detto voglio provare a vivere a Londra. E così invece non è stato, perché io poi, visto che ero a Gatwick, ho visto che c'era il treno diretto Brighton, e ho detto ma tutti parlano così bene di Brighton, la città della tolleranza, la capitale gay d'Inghilterra e tutto. E sono arrivato. E io mi sentivo veramente in un altro mondo. Mi sentivo proprio, non so come descrivere questa sensazione. Forse è una sensazione anche un po' di libertà per una persona comunque gay come me. Sentire nell'aria e anche nelle persone questo senso di libertà. E uno dice cavolo sei di Milano, più di così. Eppure anche a Milano, nonostante tutto, città che comunque mi ha dato tutto. Nel senso, i miei mi hanno fatto studiare a Milano, ho fatto tutte le mie cose a Milano, i miei amici sono di Milano. Nonostante tutto io non mi sentivo a mio agio. Ma non è che sono uno che va in giro con le minigonne, o che va in giro con le parrucche da drag queen. Semplicemente sono una persona normale. E quindi ho detto, non di sola aria vive l'uomo, capisci? E quindi ho detto che faccio. E avendo avuto un'esperienza abbastanza lunga nei fast food in Italia, ero comunque vice direttore, eccetera, eccetera. Ho detto, vabbè, io so fare quello. Quindi sono andato al Burger King di Brighton e ho detto a gesti, io voglio lavorare qua da voi. E quindi ho iniziato, ho iniziato a lavorare da loro, con molta umiltà, con molta impunta di piedi. Perché comunque molti arrivano qua e pensano di sapere tutto, di voler fare tutto, eccetera. Però io invece mi sono sempre messo un po' in disparte, pulivo i vassoi, ero proprio l'ultimo degli ultimi. Ed è così. E ti dirò che molte volte ero io che spiegavo ai ragazzi come fare le cose. Perché il Whopper è Whopper a Tokyo come Whopper a Los Angeles. Quindi è stata un'esperienza molto divertente. Però anche lì era un lavoro che mi permetteva, sì, di lavorare, di pagarmi la mia stanza. Ma anche lì è andare a scuola, dove ho dovuto imparare almeno le basi dell'inglese. E così è stato. E poi niente, un giorno ho detto basta, non voglio più lavorare nel fast food, perché a me ne avevo fin sopra i capelli, perché ero in Italia. E poi comunque anche in Italia ho lavorato sia a Milano che in Veneto, eccetera. Quindi ho detto anche basta, non ce la faccio più. Visto che c'era l'annuncio di una nota catena di pasticcerie che mai non esiste più, che cercavano un breakfast chef da formare. E io ho detto, eh, lo devo fare, da formare. E voglio imparare qualcosa di nuovo, voglio imparare un mestiere nuovo. E così è stato. Quindi ho imparato a fare il breakfast chef, fare il mattino, fare le colazioni, eccetera, eccetera. E così è stato e ho continuato a stare lì, fino a quando ho conosciuto poi il mio attuale compagno, che lui già viveva qui a Londra, che lui è uno chef. E quindi mi ha convinto a venire qua. Ed è stata una scelta all'inizio molto difficile, perché comunque arrivi da una città come Brighton di 200.000 abitanti e ti senti che vieni buttato in una megalopoli da 10 milioni. Insomma, all'inizio, per uno come me che vive di pane e ansia, capisci che alla fine non è stato facile. E quindi anche lì ho iniziato a fare il breakfast chef presso una catena di ristorazione. E lì ho imparato, ho imparato a stare in mezzo alla gente, ho imparato a stare con i miei colleghi, a stare in una brigata di cucina, a rispettare le regole. E questo è stato. E poi, per gioco, avevo risposto a un annuncio di lavoro presso un hotel Hilton, qua sempre di Londra. E il giorno dopo mi chiamarono. E io non ci credevo. E dicevo, ma io che sono l'ultimo degli scemi che sta lavorando qua. Mi hanno chiamato, sono andato là, ho fatto la mia prova. Sono piaciuto e ho iniziato poi a lavorare lì. E poi man mano ho continuato sempre a lavorare, sempre per più alberghi. Fino adesso che lavoro in un boutique hotel a South Kensington, dove mi trovo molto bene, siamo in famiglia. Tanto che il mio compagno è il mio head chef, quindi... Oh, hai sì! Questa è anche una cosa un po' kinky, si può dire. Abbiamo questa regola, che appena arriva lui io me ne vado. È forse conveniente, sì. È davvero... è una persona meravigliosa. Però lavorativamente parlando non ce la faccio. È più difficile, sì. No, non ce la faccio, perché io poi dopo dieci secondi già che parla lo mando a cagare. Ovvio. No, no, no. Abbiamo questa regola, insomma. A volte stiamo insieme, perché magari lui è da solo in cucina, allora gli faccio compagnia, così. Si è diverso, invece. Però, no, no, no. Io mi occupo di breakfast, il mio lavoro inizia alle cinque e mezza, finisce quando finisce. Mi occupo solo di breakfast. Io non voglio fare altro, non voglio fare paste, non voglio fare secondi, non mi interessa e non proprio... Le uova ci piacciono. Sono interessato. Io uova, pochex, scambolets, full english, tutto, ma quello è e quello deve rimanere. Ho avuto tantissime soddisfazioni a fare questo lavoro, perché ho lavorato anche in alberghi molto fighi, dove ho fatto da mangiare a TV Oscar. Persone che, dici, non immagineresti mai di avere a che fare con loro. E ti vedi queste persone che magari arrivano giù, che magari il ristorante è ancora chiuso, per non farsi riconoscere, eccetera, tutte queste facce stropicciate. E dici, oddio, quello lì è due premi a Oscar, oddio, quello lì ha vinto. Allora, e anche lì veniva fuori un po' l'italianità. Sì. Sì, veniva fuori un pochino l'italianità che c'era in me, quindi è andata così. Solo che, come ti ho raccontato, anche lì è arrivato a un certo punto ho voglia di qualcosa di diverso. Ho voglia di qualcosa di diverso, perché ora mi diranno, ma come? Tu hai un lavoro sicuro, sei capace di fare il tuo lavoro, sei bravo, eccetera. Sì, ho voglia di qualcosa di diverso, perché all'alba dei 45 anni, svegliarsene 4 tutti i giorni, è stancante. È stancante, insomma, sono quasi 7 anni adesso che faccio questa vita. A volte io vado a dormire, cioè dicono, ma tu vivi con il tuo compagno? Sì, però peccato che io quando vado a dormire lui torna. Quando io mi sveglio lui dorme, quindi alla fine sì, è vero. Noi viviamo insieme, ma sostanzialmente ci vediamo veramente molto poco. Ma a parte quello, non hai vita sociale. Cioè, io non posso uscire con nessuno, perché ti invitano ad andare da qualche parte e non puoi. Poi è proprio questa cosa del fisicamente che è arrivato. Forse perché sono anziano, però... No, no, è vero. Però dopo un po', credimi, è veramente un lavoro bellissimo. Lavoro in un ambiente veramente molto figo. Cioè, io mi sento proprio a casa, sono molto amato. Ci vogliamo veramente... è un ambiente molto sereno. Eppure, nonostante tutto, sono arrivato a un punto che ho detto... Io devo fare qualcosa, perché altrimenti lavoro e basta. E a quel punto che senso ha? Cioè, lavorare e basta. Alla fine dici sì, è vero. Lavori, guadagni bene. Questo lavoro mi ha permesso di avere una bella casa. Mi ha permesso di viaggiare, di fare un sacco di belle cose. Tra l'altro ci siamo trasferiti anche qui da poco. Però... e poi basta. Cioè, nel senso è quello. Perché poi dici... Ma neanche col mio compagno posso dire... Toh, una sera andiamo a vederci un musical. Andiamo... Ma non perché... Ma perché poi non ce la faccio proprio fisicamente. No, è impossibile. Io penso che da noi devi fare o il Natale o il Capodanno. Io scelgo sempre il Natale, perché Natale è ovviamente Natale. E quindi lavoro a Capodanno. Io quando arrivo al lavoro... Anche che vado a vedere i fuochi... Quest'anno siamo andati a vedere i fuochi a Buckingham Palace. Che si vedevano tutti i fuochi da là. E nonostante tutto, comunque arrivi a casa alle due. E con due ore addosso rischi poi di far ricadere tutto questo sul servizio. E dato che comunque lavoro in un 5 stelle. Il servizio deve essere 5 stelle. Né più né meno. Quindi non ti puoi permettere di sbagliare. Io veramente non ho mai avuto un complain. Non ho mai avuto niente. Però voglio che il mio lavoro sia veramente fatto bene. Sempre. E in queste condizioni non riesco più, Serena. Nel senso che ho pensato di voler fare qualcos'altro. Volevo fare un qualcosa che mi facesse guidare. Perché amo guidare. Tantissimo. Da morire. E poi che mi possa permettere di avere a che fare con la gente. Più variegata possibile, no? E allora mi ero detto. Quando arriverai a 50 anni farai l'autista Uber. Ti cediamo allora. A gennaio ho detto. Senti, ma io sai che ti dico? Che io faccio l'autista Uber. Uber che può essere Uber come Edison lì, come altri mille, no? E alla fine ho iniziato. Ho dovuto compilare questa domanda che sembra che devi andare a fare il pilota di chissà che cosa. Perché ti chiedono. Il pilota nazionale, sì. No, ma non puoi capire. Cioè ti fanno il casellario giudiziario. Ti fanno, devi fare tutti gli esami medici, anche gli esami della vista, eccetera. E poi devi andare dal GP e ti devi fare due ore di intervista dove scrive tutta la tua vita là sopra. Cioè zero privacy. Cioè lì c'è scritto pure che pastiglie ho preso, quanti ne ho prese, per quanto tempo. Metti tutto in un plico, spedisci a TFL, paghi un botto. Perché soltanto i fee sono 370 pound. Più tutte le visite mediche. E poi dopo un po' di tempo vieni contattato sempre alla TFL che ti invitano a fare l'esame topografico. E quindi tu vai in questo building stupendo che è dove c'è l'Ochu, l'arena di fronte. Oh sì. C'è questo palazzo bellissimo dove tu vai lì e c'è la tua postazione computer a due metri di distanza dall'altro, perché così non copi. E ti chiedono tutte le varie cose in base alla mappa di Londra, no? Quindi dov'è quel posto, in che griglia dell'Atlanta. Della città. Della città, eh. E quindi fai quest'esame e io l'ho fatto un mese fa e ancora non so se sono passato, se non sono passato, se sono un ciuccio, niente. Se lo passi devi fare poi un altro esame che si chiama SERU, che sarebbe una specie di esame, quindi non voglio dire una celtroneria, ma è tipo un primo soccorso, ecco, una roba del genere. Poi devi fare l'esame d'inglese. Quindi devi fare una chiacchierata in inglese e loro richiedono il D1. Va bene tutto. Bene, sono arrivato qua che parlavo a gesti come gli orangotango, però adesso non sono madrelingua, non sono uno di quelli che dice mi sono dimenticato l'italiano, penso in inglese. No, no, io penso in italiano, parlo in italiano e poi quando devo parlare parlo in inglese. Alla fine poi di tutto questo, TFL si prenderà un altro mese per stampare il beige, cioè per stampare il beige che devi portare addosso, si mettono un altro mese, più o meno. Conosco persone che stanno ancora aspettando da gennaio per avere il beige. Ci credo. Ma senti, richiedono una macchina particolare o qualsiasi macchina? Nel sito di Uber c'è un elenco di vetture consentite, consentite da loro, perché poi devi metterci sopra il medaglione loro. C'è un elenco di quelle, però io opto almeno all'inizio di andare sul noleggio, perché poi devi sapere che io, essendo un logorroico, ogni volta che prendo Uber, io faccio il terzo grado a questi qua. Ovviamente. E io ho il boroso a fianco e tu ti ho, ma vuoi finire? Eh, ma smettila, non rompi i coglioni. Eh, no, io voglio sapere. Io chiedo tutto. Mi fa piacere, esco tutto il giorno in macchina. Ma certo. No, scusa, ma infatti, pensa che c'era qua fuori c'era un autista di Addison lì che stava mangiando. Io ero in giardino e esco fuori e dico, scusa, ti posso fare una domanda? Sei italiano? Sì, io sono di Roma. Mi fa... Roma mi ha raccontato tutte queste cose. E quindi sì, opterò per il noleggio, anche perché sai che probabilmente, adesso non so come andranno le cose, da agosto Londra diventerà tutta Ulex, fino a zona 6. Quindi per forza devi prenderti una macchina comunque ibrida, una macchina elettrica. E poi sei tu comunque il responsabile della tua macchina, quindi capisci che se domani ti viene fuori un danno, che ti si rompe il cambio automatico, piuttosto che ti si rompe un qualcosa, tu oltre al fatto che comunque devi spendere dei soldi per poterla mettere a posto, poi comunque devi noleggiarne un'altra per lavorare, perché se no non lavori. Perché non è che Uber ti va, sì è vero, ti va a tirare delle olide, pagate un po' così. Però non è che dici, guarda mi metto in aspettativa, mi metto in ferie. No, devi ricominciare, certo. Sì, quindi per quello preferisco prendere il noleggio, dove tu paghi, hai tutto, comprensivo anche delle assicurazioni, e comunque l'assistenza. Quindi opterò per questa cosa. Poi a me piace guidare, mi rilassa, io quando guido sono così rilassato. Io devo andare a fare la spesa, io prendo la zip car, capisci? Sì, io noleggio la zip car qua fuori di casa, e il supermercato qui è un chilometro, io rovi, io vado in macchina, perché mi rilassa, mi piace. E allora ho detto, scusa, questa cosa mi piace, e provo. Sembra la tua, cioè nel senso, se ti rilassa a tal punto, perché non farlo, certo. Sì, mi piace, mi piace, mi rilassa. Adesso ti ripeto, però, devo vedere tante cose, perché oggi ho avuto la conferma di quando dovrò fare l'ultimo intervento per perdere peso, perché purtroppo nel mio caso, essendo stato un grosso obeso, dovevo parte proprio di un progetto che si chiamava, sulla mia cartella c'è scritto Progetto Grandi Obesi, proprio come l'ho scritto così. E quindi, adesso oggi ho avuto la data, e quindi dico, e quindi devo aspettare da fare questo salto. Aspettiamo un pochino, certo. Eh, per forza, non è che mi posso poi mettere in malattia, cioè cosa faccio? Inizio a lavorare self employer e mi metto già in malattia, dicendo che ti mangi, sembra che, no, non posso, e quindi devo stringo i denti, vado avanti ancora un pochino, tanto si parla di due mesi, ma ansia su ansia, perché comunque, questa cosa anche dell'intervento mi mette un po' ansia, però, ho la fortuna di essere in cura in un ospedale che è all'avanguardia di questa cosa qua, e quindi, speriamo che vada tutto bene. Diciamo che la vita sta prendendo la direzione che vuoi in tutti i campi, no? Fortunato in amore, andrà bene al lavoro, stai ricostruendo la tua, la tua salute. Sì, ma guarda, Serena, ti dico, io forse sono anche un po' una persona un po' atipica, nel senso, io sono, come ti ho detto all'inizio, io sono arrivato qua veramente in punta di piedi, no? Non sono mai sentito arrivato, non sono mai sentito, cioè non mi strappo i capelli se non trovo la pasta di una determinata marca, se non mangio italiano, se devo pensare ancora all'Italia, eccetera, eccetera, la mia vita è qua. Io faccio le mie cose qui, nel mio piccolo, vivo la mia vita normale, tranquilla, quindi sai, purtroppo vedo molte persone, anche nazionali, che comunque vivono qua, ma la vivono come una cosa per molti, a tempo determinato, perché dicono, io poi tornerò a vivere in Italia. Io non ne sento la necessità, perché comunque anche il mio compagno non ne vuole sapere di spostarsi dall'Inghilterra, e quindi io vivo benissimo qui, io mi sento a casa. Ma guarda, credimi, io tutto quello che ho avuto bisogno l'ho avuto, cioè nel senso, ho avuto bisogno di assistenza psicologica per un percorso che avevo già iniziato in Italia, e ce l'ho, ce l'ho con l'NHS, me lo fanno, qualunque cosa che ho avuto bisogno, l'ho fatta tranquillamente, magari aspettando un filo di più rispetto all'Italia, però io non sento tutta questa necessità, ma è un parere mio, è proprio un parere mio personale. Non incazzatevi con me, te lo dico subito. Vi incazzatevi in banno, lo sapete, è il gioco. No, ma perché sai, molti... Non cominciate. Guarda, io ti posso dire una cosa veramente molto, che ho notato, da quando vivo qui. Molte persone, soprattutto prima della Brexit, venivano qua a Londra, iniziavano, che ne so, a lavorare come lavapiatti, o come cameriere. Il loro sbaglio, secondo me, è stato quello proprio che molti, di quelli che ho visto, andavano a lavorare in posti italiani, dove parli solo italiano, dove comunque c'è la mentalità italica, ok? Certe persone che ho visto, anche dove lavoravo, non hanno mai voluto emanciparsi, cioè non hanno mai voluto dire, oh, io domani voglio provare a fare anche io le uova, o domani voglio provare a fare l'imbianchino. E quindi cosa fanno? Loro poi se ne tornano in Italia e dicono, ah, Londra è una merda, si trattano come una merda. E sulla carbonara c'è la panna. Sulla carbonara c'è la panna, eccetera. Invece, ti devo dire, io, quando è stata la pandemia, ho avuto comunque un sostegno da parte di questo governo, che poteva benissimo dirmi, guarda, ne devi andare, hanno fatto in Australia, e per quanto so io, in Australia hanno fatto così, con chi era un po' precario, insomma, no? Come hai visto. Io, pensa che, io ho iniziato a lavorare per Hilton, a gennaio, a marzo, è venuto fuori il pestone, no? Io sono, mi hanno messo a casa, mi hanno messo in forlo, e io, ogni 15 del mese, prendevo l'80% dello stipendio, che in un momento dove c'erano ristoranti, cinema, pub, tutto chiuso, quello era. Senti, il tuo flusso di coscienza, perché io l'ho visto così, un interessantissimo salto nella tua vita, nel tuo flusso di coscienza, è risposta a tutte le domande che avrei voluto farti, e visto che qui dice che abbiamo solo sette minuti, ti faccio l'ultima, hai toccato tanti argomenti bellissimi, devo essere onesta, sei una persona veramente dolce e speciale, spero di poter conoscere il tuo compagno quando verrete a Edimburgo, finalmente. No, quando vieni tu a Londra che ci facciamo un'atternuti tutti insieme. No, tanto lo so, ogni volta che vengo a Londra le persone di Londra non hanno mai tempo, perché pare che... io ce l'ho, sei tranquilla, io ce l'ho il tempo, sei tranquilla. Va bene. Ma quello che mi ha molto colpito all'inizio del tuo discorso era che era per te difficile trovare lavoro in Italia, al di là della depressione, eccetera, per un discorso anche di... Sai, in Italia cercano ancora la bella presenza, che è una cosa che mi fa ridere, e ti volevo rimandare la prima volta che sei venuta in UK e ho visto persone di tutti i tipi lavorare nei negozi di vestiti, per esempio, no? Per me è stato tipo una cosa che mi si è acceso nel cervello dire, ah, ma quindi, cioè, possono lavorare qui? Perché in Italia no, no? E lo stesso discorso per i diritti LGBT+, immagino che nella tua esperienza, soprattutto sia a Londra che prima, tu abbia visto delle differenze. Dove sbagliamo noi in Italia? Cioè, spiegami questo. Ma guarda, ma in Italia non credo si sbagli. L'Italia ha una mentalità, come ce l'hanno in Bulgaria, come ce l'hanno in Polonia, come ce l'hanno ovunque. Purtroppo la mentalità è un po' quella, è un po' un po' vintage, ok? Se possiamo utilizzare questo termine. Fa ancora paura, fa ancora vergogna. Sì, poi ci sono quegli sprazzetti che vedi, no? France che fa l'opinionista in televisione. Ci sta, è fighissimo, per l'amor del cielo, però senti ancora se che due anziani e se vedono due persone che si baciano dello stesso sesso, ciao, e le adozioni, tutte queste menate. Tu sai quando io ho capito di essere nel posto giusto? E sembra veramente una stronzata, però io veramente, è proprio quel momento in cui ho capito che ero nel posto giusto qui. Quando un giorno sono andata in farmacia a Brighton e dietro il bancone c'erano una trans e una ragazza col velo. Cioè, quelle due cose proprio che non possono collimare eppure erano insieme e poi dietro c'era il farmacista che era un ragazzo con una penna rossa, ma proprio una piuma rossa enorme in testa. Tatuata. Ah, ok. In testa, in testa. Io ho adorato, questo cappello tipo da alpino con questa piuma rossa enorme. Allora lì ho detto ma in uno stato dove sul curriculum non devi mettere la foto, dove non devi mettere la data di nascita, dove comunque ti prendono in base a quello che tu sai fare perché tu puoi anche scrivere di essere stato un ingegnere della NASA, ma loro ti mettono in prova. Tu hai tre mesi di tempo nel probation di dire sono in grado di fare questo lavoro. Se non sei in grado tirano una pedata, no? In Italia sei superi 35 anni, sei lavorativamente morto, morto. Cioè io veramente voglio che qualcuno mi dica guarda io ho 48 anni e mi hanno assunto ieri. Perché è matematicamente impossibile. Cioè io sento in questi giorni persone su Facebook leggevo persone che vengono pagate due euro l'ora, tre euro l'ora, cinque euro l'ora. Ma come fai? Come fai ad avere una dignità? Come fai ad avere una vita, una casa? Non dico la macchina, ma almeno una casa, vivere per i fatti tuoi. Cioè io cosa avrei dovuto fare? A 40 anni dovevo ancora vivere con i miei perché facevo un lavoro da 1200 euro al mese e non potevo permettermi di prendermi una casa. Certo. Capito? Certo. Questa è l'enorme differenza che trovo. Cioè io se un mio collega mi dovesse chiamare frocio, io gli faccio un harassment e questo qua finisce. Vai dai carabinieri, vai dai carabinieri delle forze dell'ordine italiane a dire guarda quello mi ha picchiato perché sono gay. Io non dico che si fanno una risata perché sarebbe brutto, ma non cadebbe un po' tutto nel dimenticatoio. Ma io non sono venuto qua in qualità di gay a dire perché se no me andavo a vivere a Gran Canaria, a Barcellona, a Madrid, in tutti i posti molto più gay. Però io sono qua perché semplicemente mi piace. Non l'ho fatto per soldi, mi piace vivere qui perché guarda, te le dico l'ultima. Ieri ero in giro verso Westminster e sta arrivando la Meloni, ok? Oh Gesù. Sta arrivando la Meloni. Allora ho detto no, devo vederlo perché poi c'era una schiera di gente che urlavano fascista, di tutto di più. Era un poliziotto di colore e io dentro di me dicevo ma in Italia un poliziotto, un ragazzo di colore può mai ambire ad essere un poliziotto? O una donna col velo può mai ambire a diventare una poliziotta? Questa è la domanda che mi sono fatto io ieri. Rispondetemi. Senti Francesco, dove possono risponderti? Sono molto Instagrammato. Adoro fotografare, tantissimo. E tutto qua, anche quello che poi trovo in giro in rete che è un pochino da sotto sviluppo mentale come sono io. Mi piace poi condividerlo, no? Tutte quelle cose un po' trash, di televisioni, eccetera. Il mio Instagram è quel trattino basso Francesco trattino basso a trattino basso Londra. Senti, ti ringrazio tanto per essere stato con noi e ti abbraccio e ci vediamo un po' di prossimo con tutti. Ti aspetto a Londra e se venite a Londra contattatemi ci facciamo una passeggiata insieme. In macchina. No, no, a piedi. A piedi. Non è un po' di prossima